Ciao a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. E parleremo di problematiche riguardanti il lavoro o comunque le notizie che possono riguardare in qualche modo il mondo di lavoro. Non si può in questo periodo di attentati terroristici a destra e a sinistra non dire qualcosa o non iniziare con questo argomento. Io sono andato a ripescarmi un articolo di Diego Fusaro del Fatto Quotidiano del 26 luglio 2016, quindi un anno fa, un anno e un mese fa, dove diceva il titolo era questo, terrorismo qualcosa non torna. Io volevo leggerlo anche perché sentire una campana diversa può anche far riflettere, chi vuole riflettere per carità, dopo ognuno ci si può mettere in canalare nella corrente di pensiero dominante, e ognuno fa quello che più aggrada. Bene, vi leggo l'articolo che dice «Stragi su stragi, senza tregua, quasi una al giorno oramai. Chissà perché, poi, questi oredi attentati si abbattono sempre nei luoghi pubblici, facendo strage di povera gente, di persone comuni, lavoratori e disoccupati, ragazzi e studenti. Mai una volta avete notato che l'ira delirante dei terroristi si abbatta nei luoghi di potere e della finanza. Mai! Mai un signore della finanza colpito, mai una statista, mai un pezzo grosso dell'Occidente. Strano davvero che i pazzi alfieri del terrorismo, che in teoria si dice avrebbero dichiarato guerra all'Occidente, non prendano di mira chi l'Occidente davvero lo governa. Se non ci dicessero un giorno sì, e l'altro pure, che il terrorismo islamico ha dichiarato guerra all'Occidente, si avrebbe quasi l'impressione che si tratti di una guerra di classe, gestita poi da chi, contro lavoratori, disoccupati, classi disagiate. Una lotta di classe tremenda, ordita per tenere a bada i dominati, per tenerli sotto tensione, proprio ora che, mentre stanno perdendo tutto, iniziano a sollevarsi. È il caso della Francia, della Loire du Travaille, uno dei paesi più colpiti dal terrorismo. Un inciso, dopo gli atti terroristici furono proibite le manifestazioni pubbliche, e lì in quel momento i lavoratori erano in piazza contro la Loire du Travaille, e per tre mesi, poi rinnovati ulteriormente, non si poteva più fare manifestazioni e scioperi. E intanto, quindi continuo, e intanto a reti unificate si fanno credere che il nostro nemico sia l'Islam, e non il terrorismo quotidiano permanente dell'economia di mercato. Ci fanno credere che il nemico, per il giovane disoccupato cristiano, sia il giovane disoccupato islamico, e non il delocalizzatore, il magnate della finanza, il fautore delle riforme, che uccidono il mondo del lavoro. Il conflitto, servo-signore, è ancora una volta frammentato alla base. Nell'ennesima guerra tra poveri, della quale a beneficiare, sono solo coloro che poveri non lo sono. Il terrorismo, quali ne siano gli agenti, è un'arma nelle mani dei potenti, fa il loro interesse, e lo fa per più ragioni. Intanto, uno, perché frammenta il conflitto di classe e mette i servi in lotta, tra di loro islamici, verso cristiani, orientali, verso occidentali. Lo scontro di civiltà di Huntington va a occupare la lotta di classe di Marx, il tutto condito con le tirate della fallacci. Il secondo luogo, perché attiva il paradigma securitario, modello patriota attusa per garantire sicurezza, si toglie libertà, et voilà, il gioco è fatto. Terzo luogo, si crea adesione al partito unico della produzione capitalistica, anche in chi avrebbe solo motivi per contestarla, l'Occidente buono contro l'Oriente cattivo e terrorista. Quarto, si prepara il terreno, prepariamoci, per nove guerre. Guerre in nome del terrore, come fu in Afghanistan nel 2001 e non molto fa, con i bombardieri in Siria. Il terrorismo diventa un'opportunità, sit veni a verbo, per guerre di aggressioni imperialistiche. Questo lo scenario, ma è poco da stare allegri, ma è meglio essere informati se non altro. E qui finisce l'articolo. Secondo me fa riflettere questo scritto di Fusare circa un anno fa, però se noi andiamo a vedere, le lotte di classe sono assenti ormai. Passa di tutto, il governo per esempio anche sulle pensioni pensa di non diminuire l'età pensionabile, che è quella che scatta automaticamente e quindi aumenta le aspettative di vita dei lavoratori. O si fanno tutta una serie di agevolazioni agli industriali, si parla addirittura di sgravi contributivi permanenti per chi assume giovani fino ai 32 anni. Una volta, mi ricordo, i giovani erano fino a 22 anni, poi siamo passati a 29, adesso siamo passati a 32, quindi siamo sempre giovani. Forse per questo aumentano l'età pensionabile e per esempio il maxi ammortamento del 250% se gli industriali adoperano o fanno l'industria 4.0. E a fronte del 4.0 ne abbiamo sentite ultimamente dell'aumento dell'occupazione, sembra adesso che l'economia vada bene, sembra che tutto giri liscio. Se da una parte però, siamo attenti, l'economia tira, dall'altra però l'occupazione non aumenta. Sta di fatto che ieri, domenica 20 agosto del 2017, il Gazzettino porta un'analisi della CGA di Mestre, il quale dice che nell'ultima parte dell'anno si potrà contare 123.000 nuovi occupati e 36.000 disoccupati in meno. Lo stima l'ufficio studi della CGA di Mestre sulla base dei dati previsionali Istat e Prometia. Dice per esempio, nel 2007 il tasso di disoccupazione era del 6,1%, quest'anno si attesterà all'11,4%, una quota quasi doppia del dato pre-crisi. Se dal 1 gennaio terminerà la politica monetaria espansiva, qual è il quantitative easing introdotto nella BCE in questi ultimi anni, molto probabilmente assisteremo a un progressivo aumento dei tassi di interesse che innalzeranno il costo del nostro debito pubblico. Mentre gli investimenti saranno meno convenienti per un paese come il nostro, che è uno dei debiti pubblici in rapporto al PIL tra i più elevati del mondo, afferma il segretario della CGA Renato Mason, lo scenario prossimo futuro rischia di risultare in termini di principali indicatori economici ancora troppo lontano rispetto all'apice economico di dieci anni fa. Quindi questa è la situazione, che poi i politici ci vengano per soltanto questioni politiche, ci danno questa rassicurazione, altrimenti andremo in piazza, penso, a protestare. Se ci dicessero veramente la realtà, ci riempiono di evasioni, in modo tale proprio da evadere, proprio da non pensare. Pensate semplicemente a Facebook o a tante altre cose che ci fa perdere tempo, ci fa evadere, cioè non ci fa pensare. Ebbene, serve a questo, ma sapete quanto, faccio un esempio, quanto ci vuole, quanti soldi ci vogliono per creare, esempio, negli Stati Uniti, un nuovo posto di lavoro? Bene, sono circa un milione di dollari. Questo lo rileva il giornalista del Corriere della Sera il 18 agosto del 2017, di Massimo Gaggi, il quale dice, vabbè, tutti dicono, oh finalmente Trump con la sua politica, fa sì che grandi imprese come la Apple, attraverso la sua controllata in Cina, che è la Fox Prom, c'è la possibilità di creare dei posti di lavoro. Ma leggiamo un attimo cosa dice. Dice che Donald Trump ha annunciato trionfante che il suo capo Tim Cook, cioè il capo della Apple, gli aveva promesso di costruire a big, big, big planet negli Stati Uniti. Entusiasmo del fans, ha pausi freddini e tirati, ma comunque applausi, anche dai critici di The Donald. Sarà protezionista, avrà amminacciato le aziende, ma alla fine un po' di produzioni le sta davvero riportando in patria. E' in arrivo anche uno stabilimento Mazda Toyota. Al rispettoso Barack Obama non era riuscito. Ma l'impatto che verrà costruito in Winsconi, non dalla Apple, ma dalla sua sub forditrice cinese, la Foxconn, costerà ai contribuenti americani 3 miliardi di dollari in agevolazioni e incentivi di vario tipo per creare poche migliaia di posti di lavoro, fino a 13 mila, gorgheggia Donald Trump. Ma quel numero fa parte di ipotesi di lungo termine dell'azienda che per ora si impegna ad assumere 3 mila operai e un arco di 4 anni. Un milione per ogni posto di lavoro. Questo costerà al contribuente. Così, se ci fossero dei giornalisti che anziché spulciare soltanto quanto succede all'estero, spulciassero anche cosa succede da noi, avremmo tra agevolazioni, tra incentivi, eccetera, quanti soldi vengono dati alle aziende italiane per creare posti di lavoro, che poi abbiamo visto, in realtà la disoccupazione a che livelli è il doppio del 2007. Ultimo argomento. L'ultimo argomento è il grande caldo. Il grande caldo ha creato disastri da una parte, ma dall'altra ha creato anche occasioni di… volevo leggervi un'altra cosa a proposito di l'aumento del PIL, perché è interessante. Ecco qua. Torno un attimo indietro, parliamo del PIL. dice, e questo è la nuova Venezia di venerdì 11 agosto, e il giornalista è Roberta Carlini, e intelligentemente, secondo me, dice, il grande caldo, infatti, parlando del PIL, dell'aumento del PIL, visto che oggi il PIL farà aumentare l'occupazione, abbiamo visto che non lo fa aumentare, perché c'è l'industria 4.0, quindi il mega ammortamento, 250% se compri nuovi macchinari. Comunque, il grande caldo, infatti, ha dato una forte spinta ai dati positivi di giugno, si parla del PIL, e questo a causa dell'impatto sul consumo di energia per condizionatori e refrigerare. L'energia guida l'aumento mensile della produzione industriale, più 5,7% da maggio a giugno, mentre è un 1,1% l'indice medio, e anche quello tendenziale da un anno all'altro, più il 10,8%. Tra qualche settimana se ne potranno vedere anche gli effetti economici negativi in termini di produzione agricola e sue esportazioni, ma per ora il contributo dell'eccezionale ondata di caldo ai numeri dell'economia è stato paradossalmente positivo. In qualche modo conferma il celebre discorso del 68 di Bob Kennedy sul PIL che diceva misura anche le ambulanze che servono per soccorrere i feriti sulle strade e le opere necessarie dopo le indondazioni, quindi anche gli eventi che di fatto non aumentano il nostro benessere. Quindi entrano nel PIL anche queste, quindi anche il caldo aumenta il PIL, i disastri fanno aumentare il PIL. E a proposito di caldo, l'associazione di apicoltori dice che le api sono, c'è stato un disastro con questo caldo, effettivamente, parla di una moria eccezionale di api. Ebbene, sentendo parlare di api, a me è venuto in mente quello che scriveva Marx su l'ape e l'architetto. Marx dice, e lo leggo, su un suo passo del Capitale dice In primo luogo, il lavoro è un processo che si svolge tra l'uomo e la natura, nel quale l'uomo, per mezzo della propria azione, produce, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura. Contrapone se stesso, quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura. Egli mette in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in forma usabile per la propria vita. Operando mediante tale moto sulla natura, fuori di sé, e combinandola, egli cambia allo stesso tempo la natura sua propria. sviluppa le facoltà che in questa sono assopite e assoggetta il gioco delle loro forze al proprio potere. Il nostro presupposto è il lavoro in una forma nella quale esso appartiene esclusivamente all'uomo. Il ragno compie operazioni che assomigliano a quello del tessitore. L'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggior architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente nel suo inizio nell'idea del lavoratore e quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell'elemento naturale. Egli cioè l'architetto realizza nell'elemento naturale allo stesso tempo il proprio scopo che egli conosce che determina come legge il modo delle sue opere e al quale deve subordinare la sua volontà. Un'altra citazione sempre riguardo a questo dice il processo lavorativo come l'abbiamo esposto nei suoi movimenti semplici e astratti è attività finalistica per la produzione di valori d'uso appropriazione degli alimenti naturali per i bisogni umani condizione generale del ricambio organico fra uomo e natura condizione naturale eterna della vita umana quindi è indipendente da ogni forma di tale vita e anzi è comune ugualmente a tutte le forme di società della vita umana questo è il lavoro il sistema invece che sfrutta il lavoro per fini solo di valore quindi economici questa società lo sta distruggendo l'ambiente in cui l'uomo nasce oggi non c'è una società che metta assieme tutte le proprie conoscenze per far sì che dal primo agosto per esempio si sono esaurite dice il print fit cioè l'impronta naturale che dal primo agosto si sono esaurite le materie prime rinnovabili presenti sul pianeta l'erosione della possibilità di rigenerazione della biosfera è peggiorata in modo esponenziale propriamente cresceva in modo altrettanto esponenziale la produzione capitalistica quindi il pil ci vengono sempre dire bisogna aumentare produrre sempre di più la massa vegetale e animale fogacitata e distrutta dall'umanità supera i limiti oltre al quale la biosfera è ancora capace di rigenerarsi in fondo se si brucia petrolio si brucia energia accumulata in migliaia di anni al ritmo di qualche decennio la soluzione in ambito capitalistico non esiste al vuoto pianisterio dei partigiani della decrescita si oppone il principio capitalistico della crescita che pretende si continui col ritmo suicida di oggi questo è il messaggio che volevo lasciare lasciarvi per riflettere su questo se tutti e quindi il modo di pensare della società dominante che sentiamo ogni giorno in televisione radio giornali e qualsiasi parte c'è l'esaltazione del produrre di più del pil che aumenta produciamo di più di quello che può servire distruggendo la natura non dobbiamo essere contenti perché ci distruggiamo noi quindi quel modo dovemo trovare quella società che mette al centro l'uomo e la produzione in armonia con l'ambiente questi sono i cardini e i principi del comunismo grazie per l'attenzione il mio tempo esaurito ci sentiamo fra 15 giorni ciao a tutti grazie a tutti